L'insabbiamento dei fondali del fiume Pescara continua a creare problemi. Si sono infatti concluse solo nel pomeriggio di ieri le operazioni di disincaglio del motopesca rimasto insabbiato in fase di uscita dal porto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Le operazioni eseguite dal motopontone Guglielmo si sono svolte sotto il coordinamento e la costante vigilanza dell'autorità marittima di Pescara che ha supervisionato le stesse per prevenire ed evitare ogni eventuale situazione di pericolo interdicendo il traffico marittimo durante le operazioni. Nonostante le difficoltà derivate dalle condizioni create si a seguito del verificarsi dell'evento la risoluzione della problematica in tempi ristretti ha permesso di rimuovere un pericolo che si era venuto a creare. Sono in corso da parte della Capitaneria di Porto le indagini tese a verificare la dinamica di quanto accaduto e ai nostri microfoni ci sono proprio i vertici della Capitaneria di Porto. Domenica alcuni pescherecci hanno avuto seri problemi nell'uscire dal porto canale di Pescara tre dei quali si sono insabbiati però sono riusciti fortunatamente a districarsi. Uno è rimasto però in secca e abbiamo dovuto lavorare veramente tanto per cercare di riuscendoci peraltro nella giornata di ieri a disincagliarlo e quindi condurlo al suo ormeggio in sicurezza. Qual è la situazione ad oggi Capitano nel porto di Pescara? La situazione ad oggi è una situazione di urgenza. Dobbiamo urgentemente ripristinare il passo di accesso in porto. Lo faremo con un intervento che inizierà già nelle prime ore di domani e ovviamente per consentire alla marineria di poter uscire e di poter continuare la propria attività lavorativa. Ci vorranno però dei lavori infrastrutturali affinché la situazione possa essere probabilmente risolta definitivamente? Certo, stiamo lavorando anche su questo e sono in corso dei lavori infrastrutturali per attuare il piano regolatore portuale che è stato vigente ma va completamente implementato. e questo sicuramente quando i lavori saranno completati avranno sicuramente degli effetti positivi anche sui fenomeni di insabbiamento.